Come sempre buona la partecipazione da parte del mondo agricolo locale in occasione dell'edizione 2022 della festa dedicata a Sant'Antonio Abate. Il patrono è stato onorato degnamente nella giornata di domenica 16 gennaio in quel diolianico con il tradizionale appuntamento prima in chiesa poi sul sagrato per l'immancabile meredizione dei mezzi e degli animali. L'evento ha visto la celebrazione della Santa Messa da parte di Don Renato che in seguito insieme ai priori Elio Pagliotti, Domenico Rolando e Alessandro Benso, nonché al fianco dei rappresentanti dell'amministrazione comunale uglianicese, si sono riuniti in piazza dei Ricetti per un ulteriore momento liturgico, anche questo sentito e partecipato. La comitiva ha quindi dato vita a un piccolo rinfresco, mentre non è mancato l'appuntamento conviviale, svolto nel pieno rispetto delle regole Covid, che quest'anno si è tenuto nella pizzeria del paese. La comitiva ha visto la città di Don Renato e Alessandro Benso, La comitiva ha visto la città di Don Renato e Alessandro Benso,